La mia famiglia crede in questo territorio da generazioni. Di padre in figlio ci siamo sempre tramandati la nostra tradizione. Ci piace la terra, ci piace il contatto con la natura. Trovare degli spunti nuovi per fare dei prodotti che siano unici. Ce l'ho nel mio DNA questa voglia di fare prodotti davvero eccezionali. E con Gardamore poterli vendere in tutto il mondo, portando i turisti a visitare i luoghi di produzione. Tramite un innovativo sistema di prenotazione e di vendita online facciamo conoscere il vero Made in Italy e la sua cultura. Grazie per la visione!